La bussola, il timone. Eh sì, volendo navigare, dovreste mostrarmi però che anche sia necessario, voglio dire che conduca a una qualsiasi conclusione, prendere una rotta anziché un'altra, o anziché a questo porto approdare a quello. Come dite? E gli affari? Senza una regola, senza un criterio direttivo. E la famiglia? L'educazione dei figlioli? La buona reputazione in società? L'obbedienza che si deve alle leggi dello Stato? L'osservanza dei propri doveri? Con questo azzurro che si beve liquido, oggi, per carità, e che non vado forse regolarmente ai miei affari? La mia famiglia? Ma sì, vi prego di credere, mia moglie mi odia. Regolarmente, e né più né meno di quanto vostra moglie o di voi. E anche i miei piccini. Ma volete che non li educhi regolarmente, come i vostri? Con un profitto, credete, non molto diverso di quello che la vostra saggezza riesce ad ottenere. Obedisco a tutte le leggi dello Stato e scrupolosamente osservo i miei doveri. Soltanto, ecco, io porto, come dire, una certa elasticità spirituale in tutti questi esercizi. Profitto di tutte quelle nozioni scientifiche positive apprese nell'infanzia e nell'adolescenza. Quelle quali voi, che pure le avete apprese come me, dimostrate di non sapere o di non volere approfittare. Con molto danno, ma sicuro, della vostra salute. Certo, non è facile valersi opportunamente di quelle nozioni che contrastino, ad esempio, con le illusioni dei sensi. Che la Terra si muove, ecco, se ne potrebbe valere opportunamente come di elegante scusa o un ubriaco. Noi, in realtà, non la sentiamo muovere, se non di tanto in tanto per qualche modesto terremoto. E le montagne, data la nostra statura, così alte le vediamo che, capisco, pensarle piccole grinze della crosta terrestre non è facile. Ma, santo Dio, domando e dico, perché abbiamo allora studiato tanto, da piccoli? Se costantemente ci ricordassimo di ciò che la scienza astronomica ci ha insegnato, l'infimo, quasi incalcolabile posto che il nostro pianeta occupa nell'universo. Lo so. C'è anche la malinconia dei filosofi che ammettono, sì, piccola la Terra, ma non piccola intanto l'anima nostra se può concepire l'infinita grandezza dell'universo. Già. Chi l'ha detto? Viaggio Pascal. Potrebbe pur pensare che questa grandezza dell'uomo, allora, semmai, è solo a patto di intendere, di fronte a quella infinita grandezza dell'universo, la sua infinita piccolezza, e che perciò grande è solo quando si sente piccolissimo, l'uomo, e non mai così piccolo come quando si sente grande. E allora di nuovo domando e dico che conforto e che consolazione ci può venire da questa speciosa grandezza se non debba avere altra conseguenza che quella di saperci qua, condannati alla disperazione di vedere grandi le cose piccole, tutte le cose nostre qua, della Terra, e piccole le cose grandi come sarebbero le stelle del cielo. E non varrà meglio, allora, per ogni sciagura che ci occorra, per ogni pubblica o privata calamità, guardare in su e pensare che, dalle stelle la Terra, signori miei, ma neanche si suppone che ci sia e che alla fine tutto è dunque come niente. Voi dite, benissimo, e se intanto qua sulla Terra mi fosse morto, per esempio, un figliuolo? Eh, lo so, il caso è grave, e più grave diventerà, ve lo dico io, quando comincerete ad uscire dal vostro dolore e sotto gli occhi che non vorrebbero più vedere, la cadrà di scorgere, che so, la grazia timida di questi fiorellini bianchi e celesti che spuntano ora nei prati ai primi soli di marzo. E appena la dolcezza di vivere, che pur non volendo, sentirete ai nuovi tepoli inebrianti della stagione, vi si tramuterà in una fitta ambascia, pensando a lui che intanto non la può più sentire. Ebbene, ma che consolazione, in nome di Dio, vorreste voi avere della morte del vostro figliuolo? Non è meglio niente? Ma sì, niente, credete a me. Questo niente della Terra, non solo per le sciagure, ma anche per questa dolcezza di vivere che pur ci dà, il niente assoluto, insomma, di tutte le cose umane che possiamo pensare guardando in cielo Sirio o Alfa del Centauro. Non è facile. Grazie. E che forse vi sto dicendo che è facile? La scienza astronomica, vi prego di credere, è difficilissima non solo a studiare, ma anche ad applicare ai casi della vita. del resto. Vi dico che siete incoerenti. Volete avere di questo nostro pianeta l'opinione che someriti un certo rispetto e che non sia poi tanto piccolo in rapporto alle passioni che ci agitano e che offra molte belle vedute e varietà di vita e di climi e di costumi. e poi vi chiudete in un guscio e non pensate neppure a tanta vita che vi sfugge mentre ve ne state tutti sprofondati in un pensiero che vi affligge o in una miseria che vi opprime. Lo so. Voi adesso mi risponderete che non è possibile quando una cura prema veramente, quando una passione accechi, sfuggire col pensiero e frastornarsene immaginando una vita diversa altrove. Ma io non dico di porre voi stessi con l'immaginazione altrove né di fingervi una vita diversa da quella che vi fa soffrire. Questo lo fate comunemente sospirando. Ah, se non fossi così. Ah, se avessi questo, quest'altro. Ah, se potessi essere là. E sono sospiri vani perché la vostra vita se potesse veramente essere diversa chissà che sentimenti, che speranze, che desideri vi susciterebbe altri da questa che ora vi suscita per il solo fatto che essa è così. Tanto è vero che quelli che sono come voi vorreste essere o che hanno quello che voi vorreste avere o che sono là dove voi desiderereste vi fanno stizza perché vi sembra che in quelle condizioni da voi invidiate non sappiano essere lieti come voi sareste ed è una stizza scusatemi da sciocchi perché quelle condizioni voi le invidiate perché non sono le vostre e se fossero non sareste più voi. Voglio dire con contesto desiderio di essere diversi da quello che siete. Eh, no, no, cari miei, no. Il rimedio è un altro non facile certo neanche questo ma possibilissimo tanto che ho potuto io stesso farne esperienza. Lo intravedi quella notte una delle tante tristissime che mi toccò avvegliare una lunga eterna agonia quella in cui la mia povera madre per mesi e mesi sarà quasi incadaverita viva per mia moglie era la suocera per i miei figliuoli moriva una di cui il figlio ero io dico così perché quando morrò io mi veglierà qualcuno di loro si spera avete capito quella volta moriva mia madre e dunque non toccava a loro ma a me ma come di te la nonna già la nonnina la cara nonnina e poi anche per me che ve l'assicuro potevo meritarmela un po' di considerazione di non farmi stare in piedi anche di notte con tutto quel freddo che cascavo a pezzi dalla stanchezza dopo una giornata di faticosissimo lavoro ma sapete com'è il tempo della nonnina della cara nonnina era finito da un pezzo sarà guastato per i nipotini il giocattolo della cara nonnina da che l'avevano veduta dopo l'operazione della catarata con un occhio grosso grosso e vano nella cavità del vetro degli occhiali e l'altro piccolo a presentare una nonnina così non c'era più niente di bello a poco a poco era divenuta anche sorda come una pietra la povera nonnina aveva 85 anni e non capiva più niente una balla di carne che ansimava e si leggeva appena pesante e traballante e obbligava a cure per poi e obbligava a cure per cui ci voleva un'adorazione come la mia a vincere la pena e il ribrezzo che costavano si pensava vedendola uno spaventoso castigo di cui nessuno meglio di me sapeva che la mia povera madre era immeritevole lasciata lì senza più nulla di ciò che un tempo era stata neppure la memoria sulla carne vecchia carne disfatta che pativa che seguitava a patire chissà perché ma il sonno signori miei non c'è più nessun affetto che tenga quando una necessità crudele costringa a trascurare certi bisogni che si devono per forza soddisfare provatevi a non dormire per parecchie e parecchie notti di fila dopo aver faticato tutto il giorno il pensiero dei miei figlioli che durante l'intera giornata non avevano fatto nulla e ora dormivano saporitamente al caldo mentre io tremavo e spasimavo di freddo in quella camera ammorbata dal lezzo dei medicinali mi faceva saltare dalla rabbia come un orso e venire la tentazione di correre da strappare le coperte dai loro lettucci e dal letto di mia moglie per vedervi balzare dal sonno in camicia a quel freddo ma poi sentendo in me come avrebbero tremato e pensando che avrei voluto essere io al loro posto perché tremassero loro invece mia non più contro essi ma mi rivoltavo contro la crudeltà di quella sorte che teneva ancora la rantolante e insensibile a tutto il corpo il solo corpo ormai e anch'esso quasi irriconoscibile di mia madre e pensavo sì sì pensavo che Dio poteva finalmente finir di rantolare finché una volta il terribile silenzio sopravvenuto nella camera a una momentanea sospensione di quel rantolo non mi sorpresi nello specchio dell'armadio voltando non so perché il capo curvo sul letto di mia madre e intento a spiare da vicino se non fosse morta vi dico un orrore in quello specchio la mia faccia proprio come per farsi vedere da me essa conservava mentre io me la guardavo la stessa espressione con cui stava sospesa a spiare in un quasi allegro spavento la liberazione la ripresa del rantolo mi incusse in quel punto un tale raccapriccio di me che mi nascosi quella faccia come se avessi commesso un delitto ma cominciai a piangere come un bambino come il bambino che ero stato per quella mia mamma santa di cui sì sì volevo ancora la pietà per il freddo e la stanchezza che sentivo pur avendo orora finito di desiderare la sua morte povera mamma santa che ne aveva perdute di notti per me quando ero piccino e malato ma strozzato dall'angoscia mi diedi a passeggiare per la camera ma non potevo guardare più nulla perché mi parevano vivi nella loro immobilità sospesa gli oggetti della camera là lo spigolo illuminato dell'armadio qua il pomodottone della lettiera su cui avevo poc'anzi posato la mano disperato cascai a sedere davanti alla scrivanietta della più piccola delle mie figliuole la nipotina che si faceva ancora i compiti di scuola nella camera della nonna non so quanto tempo rimasi lì so che a giorno chiaro dopo un tempo incommensurabile durante il quale non avevo più avvertito minimamente né la stanchezza né il freddo né la disperazione mi trovai col tratterello di geografia della mia figliuola sotto gli occhi aperto a pagina settantacinque sgorbiato nei margini e con una bella macchia di inchiostro cilestrino sull'emme di giamaica arrostato tutto quel tempo nell'isola di giamaica dove sono le montagne azzurre dove dal lato di tramontane le spiagge si innalzano grado grado fino a congiungersi col dolce pendio di amene colline la maggior parte separate le une dalle altre da vallate spaziose piene di sole e ogni vallata ha il suo ruscello e ogni collina la sua cascata avevo veduto sotto le acque chiare le mura delle case della città di Porto Reale sprofondate nel mare da un terribile terremoto le piantagioni dello zucchero del caffè del grano d'India e della Guinea le foreste delle montagne avevo sentito e respirato con indicibile conforto il tanfo grasso e caldo delle tame nelle grandi stalle degli allevamenti proprio sentito e respirato ma proprio veduto tutto col sole che è là su quelle praterie con gli uomini e con le donne e con i ragazzi come sono là che portano con le ceste e rovesciano a mucchi sugli spiazzi assolati il raccolto del caffè ad asciugarsi con la certezza precisa e tangibile che tutto questo era vero in quella parte del mondo così lontana così vero da sentirlo e opporlo come una realtà altrettanto viva da quella che mi circondava là nella camera di mia madre moribonda ecco nient'altro che questa certezza di una realtà di vita altrove lontana e diversa da contrapporre volta per volta alla realtà presente che vu prima ma così senza alcun nesso neppure di contrasto senza alcuna intenzione come una cosa che è perché è e che voi non potete fare a meno che sia questo il rimedio che vi consiglio amici miei il rimedio che io mi trovai inopinatamente quella notte e per non divagar cosa che io momento su di cinani lo dici lo dici sei pazzo io ti sto domandando sì cara tu mi stai domandando non dico di no ma che triste paese la Lapponia mi stai domandando mi stai domandando